Come il mare 2 inizia proprio ora, stiamo già festeggiando Stiamo iniziando, adesso se lui smette di parlare noi iniziamo Aspettiamo me, che io ti calmo un attimo perché sono troppo carico Agita, è venuto pure Stiamo iniziando, io personalmente inizio, loro fanno quello che vogliono Lui è il mio collega, la mia spalla diciamo Quest'anno hanno scelto un ragazzo che avesse delle grosse spalle per darmi una mano Aia, però insomma io rimango il protagonista indiscusso della serie E lui è un ragazzo su cui vogliamo scommettere quest'anno Giusto, partiamo con queste illusioni Oh, Viola come il mare? 2, 2 Siamo tra 12 Sì sì, 12, 13 Noi siamo qua fino a 2050 Tutto qua, così Nasta, quanto parlate? Nasta, Nasta, la N, N Ancora? Niente, ci ha fatto Dobbiamo iniziare? Dobbiamo iniziare